ciculi medievalizzati buongiorno e bentornati in questo pomeriggio con le gitalica gaming su crusader kings 3 oggi ragazzi continuiamo la nostra avventura dell'imperatore uberto veronese dell'holy roman empire il canossa incredibile raga allora qui ci siamo espansi moltissimo ci siamo espansi davvero moltissimo nello scorso episodio abbiamo anche messo in atto la trappola per impossessarci anche del regno di bulgaria che già è il nostro vassallo ma che fino ad oggi ci ha sempre dato non pochi problemi allora dunque 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 da dove da dove cominciamo innanzitutto iniziamo a mettere il nostro play e oggi dobbiamo anche cercare di capire come spanderci militarmente perché voglio capire anche questo questo grosso problema il prince benedetto questi qui sono della nostra casata tra l'altro sono della nostra casata clorinda dell'holy roman empire che è una canossa pure lei allora question of loyalty confrontiamoci direttamente con sofia sneaking suspicion segreto dovrà stare tra di noi il segreto dovrà stare tra di noi noi abbiamo la possibilità di andare sul look perché qua il nostro il nostro ciccio qui bravo constance non voglio essere ingravidato cioè non voglio che nostra moglie sia ingravidata da quel disgraziato da quel disgraziato allora noi andiamo ad aumentare il nostro controllo per esempio su napoli poi andrei a fare un promote culture teniamo qui continuiamo qui continuiamo qui io direi tu vammi a fare un find secrets qui a roma per esempio che magari riusciamo a beccare qualcuno magari riusciamo a beccare qualcuno intanto a proposito di roma dobbiamo controllare le nostre costruzioni qui non possiamo vediamo cosa possiamo migliorare c'è il bovinificio miglioriamo il bovi il bovinificio a per quanto riguarda arezzo aumentiamo i cervi che è una militare qui tiriamo su le farms and fields firenze anche qui farms and fields e per quanto riguarda lucca qui direi facciamoli un un improvement alle torri costantinopoli invece mi sembra sia bloccata dalla tec infatti costantinopoli è bloccata dalla tec a proposito di tec noi cosa stiamo ricercando qui stiamo ricercando le bombarde secret exposals vai a fornicare da un'altra parte qui intanto iniziamo iniziamo a scoprire segreti iniziamo a scoprire segreti su questa gente ordunque ordunque allora allora io direi che potremmo eliminare questo tizio qua al quale non possiamo dichiarare guerra al quale non possiamo dichiarare guerra potremmo torturarlo no no perché il rapporto con i nostri vassalli è ancora abbastanza vacillante your newborn son is now new hair abbiamo un nuovo erede aspetta ma è nostro figlio questo almeno non è il non è nostro figlio questo questo qui non è nostro figlio questo giordi qua è un po un laido questo giordi qui è un po un laido noi dobbiamo aspettare dobbiamo aspettare un attimino realmo in laws when vassall dies la baronessa euforia di marsiglia questa è impossessata chi è palmiers questo tizio qua dovremmo sistemarlo allora sentite un po noi con aragona ci abbiamo fatto la guerra con cordoba noi abbiamo la tregua con cordoba abbiamo la tregua con chi invece non abbiamo la tregua eh no qui è tutto cordoba 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 no no continua a cercare segreti tu continua a cercare segreti potremmo attaccare tolose in realtà qualcun altro chiediamoglielo allora iniziamo ad ammazzare questo questo qui però è un atto di tirannia noi dovremmo ammazzarlo allora iniziamo a perdonarla lei perché non voglio metterla in galera per il momento 95% vediamo se riusciamo a farlo fuori sto bastardo supportami lo schema tu supportami lo schema tu non metterti in patronaggio mettiti in court politics dammi una mano qui io te lo ammazzo questo qua questo qui adesso te lo ammazzo perché purtroppo purtroppo non posso eliminarla lei finché non mi genera un erede mio perché questo qui a parte che fa abbastanza schifo a parte che fa abbastanza schifo beh noi comunque potremmo potremmo educarlo eh noi comunque potremmo educarlo ok la duchessa amalia la duchessa amalia la duchessa amalia guardala lì la disgrazia dunque allora 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 questo chi è salvestro luca cremona trimming the dynasty salvestro very existence is an insult to the name of your glorious dynasty è un imbecile è un imbecile proviamo a far così è inetto mio signore è silvestro è silvestro inetto noi dobbiamo uccidere l'amante di nostra moglie mi ha sempre detto che bisogna no accettiamo l'invito accettiamo l'invito diplomacy perk available diplomacy perk available different screen power prendiamoci questo allora quella gran bastarda deve morire facciamoci amica la contessa ok andiamo in pellegrinaggio andiamo a gerusalemme andiamo a gerusalemme andiamo in pellegrinaggio dobbiamo andare in pellegrinaggio questa qui seduciamo nostra moglie oddio Adam's innocence proviamo a fare la challenge l'abbiamo convertita all'ortodossia ci siamo praticamente guadagnati un posto in paradiso mio signore quando è che ci scadono le tregue è scaduta allora è scaduta la tregua con cordoba è scaduta la tregua con cordoba granata granata toledo valencia maggiorca noi potremmo prenderci tutta la sardegna potremmo prenderci tutta la sardegna si si facciamo sta guerra qui facciamoci tutta sta guerra qui cancelliamo un po' di questi che se no ogni volta raga è un disastro vieni qui raise the local army e via e via e via si ammettere anche il per 4 qui Jacopo di Canossa si può sposare vediamo un po' cosa mi porti tu ammè sposati con questa sposati con questa sposati con questa ok abbiamo preso un bel po' di un bel po' di paieti ok lugodoro finito il pellegrinaggio vai lì fagli anche questa allora budding interest proviamo questo vediamo cosa succede budding interest molto bene allora knights and peasants ok ucciso perfetto il bastardo il bastardo l'abbiamo ucciso vai a far cornuto qualcun altro disgraziato a noi possiamo chiedere soldi al nostro capo della fede potremmo anche pensare di rilasciare questa gente qua per 10 rilasciamola rilasciamola il duca wudmierz lo potremmo rilasciare duca nicolizca 100 possiamo rilasciarlo rilasciarlo nada trionco rivale no la paleologa la rilasciamo il duca teber lo rilasciamo la duchessa eugenia la rilasciamo il conte geraldo no lo teniamo dentro lì a marcire duchessa maria rilasciamo anche lei allora il re agapito re dell'epiro 200 rilasciamolo 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 qui abbiamo guadagnato un po' di denaro torna qua torna qua questi c'ha le bombarde allora vediamo un po' smoldering chemistry molto bene molto bene vediamo come va qui piallati ok abbiamo guadagnato un livello di devozione molto bene molto bene 89% poi dobbiamo semplicemente aspettare ragazzi dobbiamo semplicemente aspettare ok diventa il nostro lover ecco adesso scopate per piacere queste mura però queste mura noi potremmo cambiare bene ma 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 Manetarm Leisure place Royal reserve Mi dà soldi Holding taxes Più 10 Sai che è anche l'Archery Grounds Però Colossio ci dà meno 10 di Meno 10 di roba In realtà non è che mi serva molto Allora io farei Il blacksmith Al posto delle mura Andrei a fare il blacksmith Al posto delle mura 98% dai che è finita La guerra su Social manipulation Il duca igino di Lombardia Andiamogli un regalino Ok noi abbiamo il 100% con l'oro Perfetto Adesso abbiamo pigliato anche Sassari Sassari Io la darei Al conte Said di Gallura Il conte Said di Gallura È ortodosso ed è Baranis No lo diamo a lui Conte Azuald Lugo d'oro Perfetto Perfetto Ok E questa l'abbiamo sistemata Questa qui l'abbiamo sistemata Buttiamo giù La nostra guarnigione Che ora non ci serve più Non ci serve più la Garrison Noi dobbiamo fare figli Mio signore Dobbiamo fare figli Noi dobbiamo fare figli Blackmailiamo tutta sta gente Ok Diventiamo atletici Diventiamo atletici Così abbiamo uno small boost Così abbiamo uno small boost Ok Allora vediamo se possiamo perdere Swiftstrench Possiamo fare una colanta Ok Antintrofi pure Bene Molto bene Abbiamo perso un po' di stress Questo Giordi del cazzo Fa veramente schifo mio signore Devi fare un altro figlio Dobbiamo mettere al mondo Lost in two Preso pensive Stewardship e learning Bene Stewardship e learning Dai non è male Non è male che sei pensive È un comely È un comely È un comely Però non è bastardo Questo qui C'è quindi probabilmente Dovrebbe essere nostro Credo Andiamo 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 che c'ho dello stress Da perdere Con questa nana Con questa nana Allora noi possiamo fare Confidence No Choose family opinion Non vai che siamo parenti Praticamente con tutto il mondo Siamo praticamente parenti Con tutto il mondo Dopo le bombarde Io andrei su Rightful ownership Perché i multiple core A noi fanno troppo comodo Ci fanno espandere Con una velocità Sconcertante Ah Ok Fantastico Siamo andati a questa festa di merda Oh mio dio No che abbiamo perso Un po' di stress Contri di Cassala Above vassal limit Siamo Siamo fuori dal vassal limit Eh c'è questo di empoli Allora noi potremmo Potremmo riprenderci empoli Potremmo prenderci empoli E darla a questo di orbitello Questo è il barone di terracina Questo è il barone di terracina Allora Ottobono Il problema di Ottobono Il problema di Ottobono però Allora Empoli Ok Così abbiamo risolto il problema Noi possiamo fondare Un holy order Allora vediamo un po' Dove possiamo fondare Questo holy order Potremmo farlo nella città di segni Ok Perfetto Perfetto Ok Così abbiamo fondato anche l'holy order Espionage lovers Ma questo non è che mi interessi molto In realtà Qui dobbiamo Qui sono i conoclasti Qui sono i conoclasti Non abbiamo il cancelliere Non abbiamo il cancelliere Ci mettiamo il ducaigino di Lombardia Ducaigino di Lombardia Inoltre La duchessa Nura Allora Il marshal Gerardo La duchessa Nura Dispolè No ma teniamocela lì Tanto Va benissimo così Noi possiamo aumentare il controllo Mettiamo il controllo qua Perfetto Conversation partner Had interesting conversation Molto bene Tanto è arrivata questa Noi come siamo messi con Ok abbiamo preso Eagle revealer Perfetto Nostro figlio Non vuole Non vuole mettere al mondo Un altro marmocchio Mio signore Allora Senti un po' Con l'Aragona Ci farebbe rompere la trussa Con chi siamo ancora in trussa noi Concordo Con questi Beh potremmo dare Potremmo dare una rumba a qualcuno Su Awalid abbiamo L'arrestore imperial of Cairo In teoria sì In teoria sì Però A sto punto A sto punto Tirerei la rumba a Giuseppino Che tra l'altro C'ha l'imperatrice Crane Slavonia Potremmo farci crane Oppure prenderci questo bel pezzettone qua Sì Sì Io direi Facciamoci quel bel pezzettone qua Fammi tirare su queste Tanto denari ne abbiamo Ok È diventata soulmate Ed è pure farcita lei Ed è pure farcita Questo è il miglior generale che abbiamo Di gran lunga sì Di gran lunga sì Dai mettimi al mondo un bel bambino Che lo faccio diventare erede Ok Vai giù È una figlia Mariana Voi separatevi Tu vieni qui Tu vai qua Perfetto In rapidità In scioltezza In scioltezza Voi a prendere questo forte in montagna Allora andiamo un attimo sulla famiglia La principessa Mariana E lei è pure Priti Fagli da guardiano Jacopino di Canossa Jacopino di Canossa Vieni qua Dai che questa qui La facciamo in fretta Giuseppino ormai Ha imparato a prendere Sberle a destra E a manca Raga Ne prende a destra E a manca Sti Restoration Casus Belli Sono bellissimi Bravo Constance Bravo Constance Ok Ah ma è in guerra anche con loro È in guerra anche con loro E allora non si rialzerà mai nella vita Tivoli a posto Allora noi abbiamo una viable perk Noi abbiamo una viable perk Questo ci dà paiti Noi abbiamo 2000 Stewardship Lifestyle Experience Più 10 Possibilità di ereditare tratti genetici cattivi Architect Ancestry Bella Eh dobbiamo tenere da parte i punti Perché voglio la Resilient Bloodline Voglio la Resilient Bloodline C'è poco da fare C'è poco da fare Vieni qui Questi dove stanno andando Proviamo a prenderli da sotto Proviamo a prenderli da sotto Che l'abbiamo chiuso L'abbiamo chiuso alla grande Peccato che non può esserci l'imperatrice Al comando della Dell'esercito No prenditi Luke Prenditi Luke Che cosa buona e giusta Un'altra figlia Ma basta figlie Cacchio Basta Allora abbiamo una diploperca Viable Vieni qua Siamo above domain limit Perché siamo above domain limit Cosa cacchio abbiamo preso Scusa Cos'è che abbiamo ereditato Cosa cacchio abbiamo ereditato Ho paura di vedere Che cacchio abbiamo ereditato Ne abbiamo una in più Ma perché? Probabilmente segni Ah Terra 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 Cina Cina Un castle Scusami Dopo devo andare a vedere Devo andare a vedere Ma scusami Segnete il gaggiato del Gran Maestro Gran to low noble Perfetto Ma ho paura però Perché Per quale motivo Me l'ha data? Avrò ereditato Qualcos'altro Da qualche parte Che non riesco a capire Dov'è Probabilmente Quello Allora io direi Che voi potrei anche Disbandarvi Andiamo di qua Vediamo se riusciamo A fargli fuori Questo Tanto abbiamo il 90% Ragazzi Cioè È solo questione di tempo È solo questione di tempo Burin the hatchet Basta essere rivali Facciamo l'amore Con il sapore Mio signore Vieni qua Muori bastardo Qui cos'è? Oh è morto un rivale Abbiamo perso stress Molto bene 100% Enforce Demands Adesso qui abbiamo Un sacco di Un sacco di roba Abbiamo un sacco di roba Grenoble Monteil Vivier Dunque Vediamo un po' Già cosa c'è qua Qui chi c'è? Qui c'è Il Bishop Anatolios Daglieli al Bishop Anatolios Ok Perfetto E ce ne siamo liberati Allora Questi qui Li mandiamo via Adesso abbiamo Troppi vassalli Perché l'Anatolios È diventato pure Nostro vassallo Mio Dio 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 Sto lazzarino Di Empoli Ma porca Loca Sto tizio qua è di Orbetello Abbiamo troppi vassalli Che palle Abbiamo troppi vassalli Allora ragazzi Come possiamo risolvere Questo problema Con i vassalli Io vi lascio Con questo quesito Sei troppo grasso Sei grassissimo Robert Sei grasso È questo Che volevi dire Vino Ragazzuoli Allora Come risolviamo Questo dilemma Dei vassalli Io aspetto Il vostro consiglio Sotto nei commenti Se volete aiutare Il dictator È sempre ben accetto Detto questo Vi ringrazio Per la compagnia Vi invito a lasciare Come sempre un like Per sostenere la serie E il canale E noi invece ci vediamo nel prossimo video Buon pomeriggio a tutti